Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Buon venerdì a tutti quanti voi, come state? Mi auguro molto bene. Allora, abbiamo un bel po' di cose di cui parlare. Sono tante notizie, un video raccoglitore delle ultime legate alla Juventus, quindi andremo a commentare quelle che sono le notizie principali raccontate dai vari media, lo faremo insieme. Quindi mi raccomando, mettete like al video, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, vi invito anche a seguirmi di là, dall'altra piattaforma Twitch, dove sto streamando un pochettino di roba, che è interessante, facciamo delle reaction a dei video, facciamo un po' di GTRP, se volete vado di pomeriggio lì in live e in terra da serata. Quindi mi raccomando, vi invito comunque a commentare, essere partecipi su questo canale, sulle questioni legate alla Juventus, su tutti gli aspetti, che sono convinto che vi daranno dei buoni spunti di riflessione e usciranno fuori degli ottimi commenti. Quindi mi raccomando. Allora, ci sono tante notizie di cui parlare. La prima è legata a Carlos Algarazza. Avete visto che si è infortunato per un mese, ha un diritto di riscatto fissato a 49,5, che è una cifra esorbitante e sicuramente questo mese qua non aiuta al suo potenziale riscatto. Abbiamo già poche speranze prima, ma io non le avevo escluse del tutto, perché la questione economica è secondaria rispetto a quella che è la scelta tecnica. A mio parere, con un pochino di soldi meno, si può comprare un pelo meglio, ecco, a dolci. Poi Carlos Algarazza sarà di belle speranze, eccetera, ma credo che a quelle cifre sia una roba improponibile. Salvo poi non venga riconsiderato un po' quel totale per il riscatto, ecco. A quel punto, magari rimodulando un po' l'offerta del Southampton, possiamo arrivare, secondo me, a delle condizioni anche favorevoli e vantaggiose. Bisogna cercare un po' di abbassare quella che è la loro cifra. Però ad oggi non l'abbiamo visto, per cui è non giudicabile. In Italia c'è qualcuno che è migliore di lui, che può essere utile alla causa della Juventus, così. Beh, si parla tanto di Coppemainers, che sono, secondo me, due giocatori differenti. Però non trovo Coppemainers dal punto di vista economico un colpo vantaggioso, tutt'altro. Secondo me è super oneroso. A me non dispiace Ederson dell'Atalanta, infatti si parla anche di Ederson. Secondo calciomercato.com, insomma, nelle ultime settimane, Giuntoli ha riattivato quella pista là, la sta tenendo bella calda. Resta comunque una trattativa abbastanza complicata, perché l'Atalanta non vorrebbe cederlo, se non di fronte a un'offerta irrinunciabile da circa 35 milioni, secondo alcune indiscrizioni. Le insidi principali sono legate ovviamente alla Premier, perché Ederson è un giocatore che piace tanto all'estero. Posso dirvi la mia, in ordine di preferenza. Io preferisco Ederson alla Coppemainers. In quei ruoli là, di mezzala, preferirei qualcos'altro rispetto a Copp. Che è un bel giocatore che ci ha fatto sì, doppietta, tutto quello che volete. Però non lo trovo un giocatore da Juve. Scusate, in realtà c'è un po' d'allergia. Perché in questi giorni sta iniziando la primavera, le fioriture, con questi climi così. È un bel casino. Comunque, ripeto, Ederson a me è un giocatore che piace tanto. Potrebbe essere un mediano che andrebbe a svincolare da tanti compiti difensivi di impostazione. Lo stesso Locatelli. È un giocatore che poi ha anche una buona presenza in fase offensiva, perché sa rifine l'azione, sa persino segnare e si sa proporre quei tempi giusti. È un giocatore che veramente mi piace un sacco. Un'altra novità è legata invece alla questione dei portieri. Il Tutto Sport apre con questa pagina tutta dedicata a carne secchi. Parlando appunto di Scesni, di Perin e di Pinsorio. Tutta la batteria dei portieri ha un contratto in scadenza al 2025. O si prolungherà quindi il contratto di questi tre portieri, o c'è il rischio che si vada poi su un altro portiere. Classico. Ma ne avevamo già parlato, se ricordate, con la questione di Donnarumma. La Juve su Donnarumma, la Juve su Donnarumma. Io cosa vi dissi? Io sono molto contento di Tech Scesni. Tuttavia in ottica di abbassare i costi di ingaggio, in questo caso, o ringiovanire quella che è l'età dei portieri, capisco la mossa della Juve. In generale, pur con Donnarumma, che non è che è forte tra i pali, non mi convince tanto nella concentrazione, nei 90 minuti. Ogni tanto fa la paperella, ogni tanto coi piedi lo vedo incerto e insicuro, per cui non mi convince pienamente. Però a livello logico, pura logica di rinnovamento della rosa, ci può stare alla grande un discorso di questo tipo. prendo un giocatore più giovane, che mi costa magari anche meno in totale, e ha una futura abilità, rispetto a rinnovare un contratto a Tech Scesni, che va per una certa. Io ripeto, Scesni per me è uno dei giocatori più forti che abbiamo in rosa, e che secondo me dimostra, con le sue parate, con i suoi interventi, di tenerci sempre là sul pezzo. Per quanto riguarda Carnesecchi, ha l'approvazione totale di Gigi Buffon. Buffon dice di lui, ha una grande struttura e una grande tecnica, farà una grande carriera, quindi una sorta di predestinato. Vedremo poi cosa succederà. Scesni, a mio parere, vorrebbe finire la carriera alla Juve, non è a mio parere, in realtà l'ha detto anche lui stesso. Vedremo poi quale sarà l'evoluzione della situazione. Un'altra situazione, si parla già della tournée estiva, perché comunque la Juve è sempre proiettata in avanti. Avete visto dal mercato alle tournée, al modello pre-club, a tutte quelle decisioni che vanno prese per la prossima stagione. Si inizia a pianificare inevitabilmente già da marzo la stagione prossima. La tournée sarà ovviamente negli States. Ne avevamo già parlato, la Juve ha incontrato fino al 2025, mi pare, con gli Stati Uniti, per cui tornerà lì fino all'anno prossimo anche. L'obiettivo di Bianconeri sarebbe quello di consolidare le proprie strategie di marketing, eccetera, anche oltreoceano. Però c'è da capire come si incastra anche il discorso sponsor. Se vediamo una Juve che guarda a oriente, ecco, non dobbiamo comunque tralasciare o escludere totalmente l'ipotesi di uno sponsor americano. Questo, insomma, può succedere, potrà succedere. Quindi questo è da capire. Altra cosa invece legata al cambio allenatore, Igor Tudor è molto vicino alla Lazio e questo ovviamente lo esclude dall'eventuale successione a Massimiliano Allegri. Sono contento per Igor. Non mi pare un contesto adatto per via del suo presidente e per via dei giocatori anche che ha. Vediamo se Tudor darà quella scossa. Sono molto curioso di vedere dall'opera. Sicuramente è un allenatore di gran carattere che si farà rispettare, che cercherà di imporsi. Uno spogliatoio che in questo momento è abbastanza frammentato e un po' incasinato. Questo è il mio parere. Per il resto, ragazzi, che vi devo dire? Siamo a due giorni della partita contro il Genoa. Partita di fondamentale importanza. Si registra un altro sold out allo stadion. Vedremo quale sarà la reazione del pubblico, dei ragazzi, eccetera. I ragazzi in realtà si stanno allenando. Anche oggi la Juventus ha fatto dei video. C'erano i Hildiz. Addirittura De Scigli ho rivisto. È stata una visione, una sorta di... Un miracolo sembrava. Perin ha recuperato. Rabiot ha fatto parte anche dell'allenamento della squadra. Qualche buona notizia c'è in vista della partita con il Genoa. Serve assolutamente la vittoria. Ecco, non c'è nient'altro da aggiungere. È stato, ragazzi, una sorta di involtino di tante notizie questo video. Io vi invito a iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. Sono stanco. Di essere veramente stanco. E nulla. Ci vediamo più tardi con un altro video. Insomma, altre considerazioni. Ciao, belli.